Ogni giorno quello che scegli, quello che pensi, quello che fai, è ciò che diventi. La tua terra ti parla. Riesci a sentirla. Questa è la tua voce. Una voce che cresce. Una voce che cambia. Sì, cambiamo per stare al passo con i tempi. Cambiamo per creare una televisione che possa trasformare l'ordinario in straordinario. Questa è la nuova Video Calabria. La voce della tua terra. Metti sul 10.